Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Praticare la misericordia. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Bisogna essere buoni e lieti, sinceri e ricchi di operosità perché dobbiamo cercare di essere santi e di essere ricchi nei nostri compensi verso la società. La misericordia è quella bontà che accompagna a tutti e nel dare e ricevere ci si arricchisce a vicenda perché se siamo nella fede operosi con fedeltà ci tratteranno e ci apprezzeranno. Quindi la misericordia è come una banca dove tutti i cristiani mettono le loro opere e poi ricevono in cambio questa bontà da altre persone. Forse non se ne accorgeranno di questa bontà però se ognuno ci fa caso quante azioni buone compiamo tante opere di bontà riceviamo. Vi leggo adesso la poesia dal titolo Praticare la misericordia. Siate buoni e lieti, sinceri e operosi uomini dai santi riti che offrono ricchi compensi Siate misericordiosi e nella vita donate Siate nella fede operosi e tanta bontà riceverete La misericordia è la banca di tutti i fedeli cristiani che riceveranno tanta speranza per i loro lieti propositi La misericordia è la ricchezza di ogni vero cristiano che al mondo dona carità per ricevere il santo orgoglio Grazie, spero la condividerete a tutti Arrivederci